E allora bentornati ancora nuovamente in questo nuovo podcast e oggi parleremo di un attore che ha avuto una vita difficile, complicata, ma che è stato uno dei migliori sotto il panorama dell'action e non solo, stiamo parlando di Kino Reeves. In dato dobbiamo dire che lui ha dei Natali molto particolari perché nasce il 2 settembre 1964 in Libano e ci sarà un incrocio dei suoi genitori che saranno statunitensi e inglesi e a sua volta il padre aveva un incrocio che era cinese, irlandese, americano, quindi un vero e proprio mix dal punto di vista etnico. Il volto di Kino Reeves lo esclama proprio in maniera chiara questa fusione, questo mix etnico. Kino Reeves, che è un nome hawaiano perché comunque ha cresciuto, ha passato parte dell'infanzia proprio alle Hawaii, significa dal mare verso i monti ed è stato proprio quasi un modo di anticipare quella che sarebbe stata la sua vita, sia dal punto di vista artistico sia per quanto riguarda la vita privata. Kino Reeves è stato considerato nel 1995 tra le 50 persone più belle del pianeta dalla rivista People. Ma torniamo indietro, torniamo a quando era semplicemente un ragazzo perché poi i genitori, pur lui nascendo nel 64, divorceranno nel 66 e lui deciderà di vivere con la madre, precisamente in Canada, a Toronto. E a Toronto, soprattutto quando ricomincia a studiare le superiori, riesce diciamo a relazionarsi un po' con la società di cui faceva parte. Sportivamente, essendo comunque un appassionato di moto fin dalla tenera infanzia, sarà portiere invece di hockey su ghiaccio della squadra della scuola superiore. Credo che ci sarà anche il college, credo, in Canada. Lui viveva precisamente a Toronto. Fu poi, tra l'altro, è curioso il caso, essendo lui il primo sport che ha praticato proprio l'hockey su ghiaccio, il primo film in cui sarà protagonista è un film a riguardo e si chiamerà Spalle Larghe. A scuola però ha passato dei momenti difficili, nonostante ciò partecipava già alle scuole di recitazione, ma fu etichettato come una persona davvero poco intelligente. Questo perché era, ed è, dislessico. Diciamo che è un problema che si è visto in diversi attori. Anche l'attore che interpreta Fonsi, nella famosa serie Happy Days, anche lui è dislessico. Ma è un problema, diciamo, non lo reputo neanche un problema perché è qualcosa che si può comunque tranquillamente risolvere. Kino Reeves è un personaggio molto alto, anche fisicamente, perché già alle scuole superiori dimostrava un'altezza molto particolare, non molto particolare, già molto sviluppata, che era di 185 cm, quindi abbastanza alto. Ha fatto diversi film di successo, è iconico sicuramente il ruolo di Neo nella trilogia di Matrix, tra l'altro in produzione, ora vedremo un po' se la situazione cambierà, la quarta pellicola di Matrix. Ma sicuramente il ricordo più importante che ho di Kino Reeves fa parte dell'Avvocato del Diavolo e l'interpretazione di Al Pacino, lasciatemi dire che delle volte offusca proprio il ruolo di Kino Reeves, nonostante ciò segue un percorso ben delineato e lo interpreta meravigliosamente quel personaggio. Poi c'è Point Break, che è davvero una bellissima pellicola che vi consiglio di vedere. Poi c'è Speed, poi c'è Belli e Dannati, dove lui si prostituisce, il suo personaggio si prostituisce sia con uomini che con donne, quindi ha avuto sempre questi ruoli molto forti, sotto tutti i profili. Quindi sicuramente la sua vita, la sua tenacia nei confronti della vita, il modo di stringersi ad essa è davvero molto importante, anche nella formazione dell'attore, perché sapere cos'è il dolore e trasformarlo in arte è roba da pochi. Lo diceva Meryl Streep, lo dicevamo in qualche podcast fa. Lui è riuscito a fare questo, Kino Reeves, a prendere la propria arte, a prendere il proprio dolore e trasformarlo in vera e propria arte. C'è veramente come successi anche la vita segreta della signora Lee, che lo porterà ad essere premiato al Festival di Berlino. C'è da sottolineare che Kino Reeves è un attore pazzesco, per me è un attore pazzesco, purtroppo però non ha avuto sì delle nomination agli Oscar, ma non ha vinto il premio Oscar. Quindi ci tengo a sottolineare che non sempre vi deve essere questo premio per delineare chi è un grande attore. Faccio un esempio, Roberto Benigni ha vinto il premio come miglior attore protagonista, come premio Oscar. Probabilmente non sappiamo se Pier Francesco Favino, che a livello attoriale rispetto a Roberto Benigni è molto più bravo, ma questo non va a significare che un attore è meglio dell'altro e questo discorso vale sicuramente per Kino Reeves. Nonostante ciò porta con sé dei fallimenti dal punto di vista della critica e del botteghino. Ecco, se lo analizziamo per bene, un film di sicuro successo per la critica è stato l'avvocato del diavolo come belli e dannati, e un film di sicuro successo al botteghino è stato sicuramente Matrix. Però ci sono stati dei fallimenti che l'hanno portato addirittura ad essere candidato a Razzi Award, con The Watcher, Headball e Sweet November, dei film che sicuramente non rimangono, diciamo così, non permiano nell'essenza del cinema mondiale. Tra le curiosità sicuramente di cui dobbiamo far riferimento è che suonò anche il basso, quindi non è soltanto un giocatore di hockey, su ghiaccio e appassionato di moto, ma suonò il basso nella band Dockstar e fu volto ed è stato recentemente volto e voce prestato ai videogiochi in Cyberpunk 2077. Cyberpunk ha avuto dei grossi problemi all'interno della sua produzione nell'ultimo periodo, però sicuramente l'annuncio che viene fatto del videogioco qualche anno fa con Kino Reeves che lo presenta ha dato un effetto mediatico alla cosa davvero molto, ma molto interessante. Kino Reeves è stato anche, diciamo così, utilizzato come meme diverse volte con il set Kino, dove si va a raffigurare la sua faccia triste, quindi le reazioni sono, diciamo, come Kino Reeves. Attualmente sta realizzando anche un fumetto che prenderà il suo stesso volto, la sua stessa immagine, e sta lavorando al progetto insieme a un fumettista italiano che è Alessandro Vitti, un bravissimo fumettista italiano. Io vi consiglio di andare a vedere i lavori di Alessandro Vitti che sono fatti veramente bene ed è uno dei talenti e degli aspetti più belli che abbiamo in Italia, soprattutto per quanto riguarda la fumettistica. Purtroppo, come dicevamo, Kino Reeves, la parola Kino, il nome che gli viene dato, ha un significato particolare. Dal mare verso i monti. Ecco, partì dal mare, pur essendo nato in Libano, partì dal mare, dalle belle cose, nonostante la crisi dovuta ai compagni che lo reputavano poco intelligente alle superiori, poiché era dislessico, ma ha dimostrato di essere un attore pazzesco. Ripeto, è un problema che si può superare, si può superare in tante maniere, ma dal mare verso i monti perché? Perché la scalata di Kino Reeves comincia forse quando conosce la moglie, Jennifer Syme, e si fidanza con lei nel 1999. Di lì a poco, nello stesso anno, quando loro si fidanzano, hanno una figlia che nasce ma muore per una malformazione congenita dopo pochi giorni. E questa è la prima batosta che prende Kino Reeves nella vita. Nonostante la sua tenacia, però succede qualcos'altro. Nel 2002, Jennifer Syme va a una festa organizzata da Marilyn Manson, decide di andare via accompagnata, lo stesso cantante richiama la donna e dice di tornare alla festa, lei si rimette in auto e in un incidente stradale perderà la vita. L'autopsia poi dirà purtroppo che c'era un mix dentro di lei nel suo corpo di anestetici antidepressivi. La vita di Kino Reeves non è stata di certo facile, soprattutto per queste due scomparse. Non oso immaginare cosa vuol dire perdere praticamente tutto quanto a un certo punto della propria vita. E quello che Kino Reeves è riuscito a mostrare nella sua arte, nei lavori che ha svolto, è stato semplicemente pazzesco. Uno perché ha dimostrato una forza d'animo e un ardore incredibile. Il talento che portava con sé, nonostante non abbia vinto questo premio, è un talento infinito. Fuori dalle scene, quando si presenta al pubblico, con la gente, quando si relaziona, anche nelle varie fiere, si è sempre dimostrato buono e dolce nei confronti del suo pubblico e dei suoi fan. È un attore strepitoso. Sotto ogni aspetto non possiamo dire il contrario. Sarebbe assurdo pensare il contrario. Sì ha delle nomination ai Rates Award che sono l'opposto degli Oscar, ovvero i film più scadenti dell'anno, ma chi non ha sbagliato? Michael Jordan una volta disse che la gente si ricorda di tutti i punti che ha fatto, ma lui sa benissimo che sono più i canestri che ha sbagliato di quelli che ha messo dentro. E questa è una metafora molto bella per dire che sì, tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fallire quel canestro. Lo possiamo fallire cento volte, ma la numero 101 sarà quella più importante. Quindi si può sbagliare, si può fallire, si deve fallire e si deve ricominciare ogni giorno a perseguire la propria strada. Chi non lo fa sicuramente avrà qualche rimorso e tanti rimpianti. Kino Reeves è stato questo ed è stato forse anche di più di quello che io sto dicendo. Perché, ripeto, la forza con cui lui ha preso la vita, di certo, non la troveremo mai negli altri attori. E come direbbe forse Al Pacino nell'Avvocato del Diavolo, Kino Reeves è un fanatico della vita.